Racconta fratello qual è il tuo peccato, dimmi con chi quante volte sei stato, hai detto bugia, hai fatto la spia, or su perché invece sono fra di sei. Ascoltami frate, non so il suo peccato, ho ucciso un bastardo che avrebbe voluto coprire i tuoi soldi, il suo sporco mazzato, tentando così di non fare il suo padre. Grazie a tutti. Cosa dici fratello, tu hai ammazzato, nel quinto ricorda ti è stato proibito, non posso salvarti dal fuoco eterno, hai solo un biglietto per l'inferno. Ascoltami frate, dimmi se è questo, lo chiami peccato o un nobile gesto, ho preso dei soldi a un ricco signore, per tanto mangiare all'uomo che vuole. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.